Una nuova operazione per contrastare l'evasione fiscale e riportare a tassazione i ricavi non dichiarati è stata compiuta dalla Guardia di Finanza, dal Comando Provinciale di Cagliari e dalla tenenza di Iglesias. Le fiamme gialle nel corso di una serie di controlli hanno scoperto che un'azienda che opera nel Sulcis, nel settore del commercio e dei prodotti agricoli, si configura come evasore totale non avendo presentato dichiarazioni di redditi negli anni sottoposti a controllo, vale a dire dal 2013 al 2017. Nel guai col fisco è finito il titolare dell'azienda che, secondo quanto accertato dalle fiamme gialle di Iglesias, ha occultato al fisco ricavi per 446.000 euro e non ha pagato imposte per 17.900 euro. I finanziari della tenenza di Iglesias hanno proceduto alla ricostruzione del volume d'affari della società attraverso l'incrocio dei dati contenuti nella banca del corpo e quelli rilevati nel corso dell'ispezione. Le indagini hanno permesso di scoprire che il titolare dell'impresa negli anni fiscali sottoposto a verifica dai militari non ha ottemperato le incombenze di legge in materia fiscale.